Nella trasmissione di oggi continueremo il Gesù di Nazareth e l'infamia umana. Ricordo che sto leggendo la quarta parte del Gesù di Nazareth e l'infamia umana ed è la relazione fra Gesù e i farisei. Abbiamo ancora due trasmissioni. Abbiamo questa che parla delle guerre iconoclaste, dei documenti sulle guerre iconoclaste e la prossima che invece commenteremo sempre un aspetto del Gesù di Nazareth con i farisei e lo avvicineremo a Young House e Winkleff. Seas era il rettore di un'università che fu condannato a morte per appoggiare le tesi di Winkleff fu bruciato a rogo e Winkleff non fu condannato a morte perché era già morto da vent'anni a quel processo. Il pezzo che tratteremo oggi dei Vangeli è incredulità dei giudei quando siamo arrivati al Vangelo di Giovanni. La frase è incriminata, cioè il pezzo che prenderemo come metro di misura. Ma sebbene avesse fatto così grandi miracoli davanti a loro non credevano in Lui affinché si addiempisse la parola detta dal profeta Isaia Signore, chi ha creduto alla nostra predicazione? E a chi è stato rivelato il braccio del Signore? Non potevano credere perché Isaia aveva pure detto Egli ha ceccato i loro occhi e indurito i loro cuori affinché con gli occhi non vedano e con il cuore non intendano e si convertono e li risani. Tali cose disse Isaia allorché vide la sua gloria e di Lui parlò. Tuttavia anche molti capi credettero in Lui però per paura dei farisei non lo confessavano non per non essere cacciati dalla sinagoga. Preferivano la gloria degli uomini e la gloria di Dio. Questo è il pezzo in Giovanni. Vi faccio notare il sottile parallelismo che esiste fra Dio che indurisce i cuori per non capire il messaggio di Gesù e Dio che indurisce il cuore del Faraone affinché Lui possa avere la giustificazione per mandare le piaghe in Egitto e fare la distruzione dell'Egitto. Esiste sempre questo principio, un principio fondamentale dell'ebraismo, cioè del pensiero ebraico. Io voglio distruggerti, ti do le indicazioni affinché tu potresti non essere distrutto, però te le do in modo tale che tu non le capisca così io ti posso distruggere. Un esempio pratico della realizzazione di questo principio l'abbiamo avuto per esempio nella guerra dei sei giorni. Nella guerra dei sei giorni gli ebrei fecero in modo, cioè Israele fece in modo di far apparire che l'Egitto lo attaccasse per poter scatenare la guerra quando lui voleva. Questo è un modo di applicazione anche di questo principio. Bene, andiamo al commento. Incredulità dei Giudei Secondo Giovanni, i Giudei, appare il termine in Giovanni mentre sconosciuto, il termine giudeo appare in Giovanni mentre sconosciuto, sia in Marco che in Matteo, e sta a indicare come Giovanni non fosse uno degli apostoli ma un tardo Giovanni. Non credevano in Gesù, sebbene egli avesse fatto molti miracoli. Secondo Giovanni, era necessario credere in Gesù perché lui aveva fatto molti miracoli. A parte il fatto che i miracoli aumentavano a mano a mano che il tempo di Gesù si allontanava nella storia. E quelli descritti da Giovanni sono assolutamente fantasiosi. Vedi l'invenzione della risurrezione di Lazara. Infatti perché non ne parla per esempio Marco e Matteo. Ma è la logica che stride. Era necessario credere al fatto che Gesù fosse figlio del macellaio di Sodoma e Gomorra perché Gesù faceva molti miracoli. Erano i miracoli a qualificare Gesù. Il problema era che chiunque faceva miracoli o li militava, poteva passarsi per figlio di Dio. Gesù non portava speranza, Gesù non portava futuro. Gesù era un attore che metteva in scena degli spettacoli e tutti dovevano credere che quegli spettacoli fossero miracoli e a quei miracoli era necessario credere. Ma dal momento che la gente non credeva ai trucchi da baracone, Giovanni dice che loro non credevano perché Isaia aveva detto che Dio aveva cercato i loro cuori e indurito i loro cuori affinché con i loro cuori non intendano e con i loro occhi non vedano. Non lo diceva Giovanni, lo diceva Isaia. E vuoi che i presenti davanti a Giovanni mettessero in dubbio l'autorità di Isaia? Ecco perché Gesù non riusciva a convertire gli esseri umani del suo tempo. Dio lo stava impedendo. Per questo motivo Gesù falliva la sua missione divina. Perché Dio la stava ostacolando. Perché tutto rientrava nel disegno divino, altrimenti vuoi che quegli uomini potessero distruggere il figlio del Dio creatore dell'universo? Nonostante Dio avesse indurito i loro cuori e ecceccato i loro occhi, dice Giovanni, anche molti capi, usa il termine generico di capi anziché quello più preciso di gran sacerdoti, scribi, anziani usati da Marco e Matteo, credettero in lui. Nonostante l'azione di Dio che accecava i loro occhi e indurisce i loro cuori, dei capi sono stati in grado di superare il blocco operato da Dio creatore, macellaio di Sodoma e Gomorra. Chi era più possente? Dio o quei capi? In realtà non è questo che interessa a Giovanni. A Giovanni interessa giustificare contemporaneamente il fallimento di Gesù e nello stesso tempo perché non fu seguito da nessuno, nonostante i suoi grandi miracoli. Di chi avevano paura i capi? Dei farisei, dei pii, avevano paura di essere cacciati dalla sinagoga. Come potevano preferire la gloria degli uomini a quella di Dio se Dio stesso aveva ceccato i loro occhi e indurito i loro cuori? La logica non è il punto forte di Giovanni. Giovanni indica alla Chiesa cristiana come comportarsi nei confronti di chi non crede alle parole della Chiesa nonostante le grandi manifestazioni che la Chiesa dà per essere considerata la rappresentante di Dio sulla terra. Qualcuno indurisce i loro cuori e dal momento che in questo caso non può essere Dio a farlo, lo ha fatto soltanto per quanto riguarda Gesù, deve essere sicuramente il nemico di Gesù, il demonio. Inoltre, dice Giovanni alla Chiesa, di guardarsi da chi finge di credere per non essere cacciato o perseguitato, credendo invece in cose diverse. Come i farisei per Giovanni sono coloro che dominano la cultura giudaica, così la Chiesa cristiana domina la cultura nelle comunità che si stanno espandendo nelle varie città e deve imparare a comportarsi come Giovanni dice che si comportavano i farisei. Vediamo come viene applicato questo principio o uno degli aspetti di applicazione di questo principio e parliamo della disputa iconoclasta fra cristiani. Infatti abbiamo visto questo principio qua, Giovanni scrive i suoi Vangeli proprio per organizzare le Chiese, i cristiani all'interno delle città dove ci sono, perché in realtà tutti i gruppi cristiani stanno andando alla malora, cioè si stanno sciogliendo e stanno abbracciando tutti quanti la filosofia gnostica. Cioè l'ognosticismo è vincente. Infatti per il Vangelo Giovanni il nemico più grosso che lui ha è proprio il Vangelo di Tommaso che stava prendendo piede, che è un Vangelo pagano purtroppo. Nella disputa iconoclasta vediamo la risoluzione finale del concilio di Costantinopoli del 754. Cosa dice la soluzione finale del concilio di Costantinopoli del 754? Sedotti da Satana, gli uomini si erano messi ad indirizzare le loro preghiere alle cose create invece che al Creatore. La legge di Mosè e i profeti hanno condannato questo peccato. Per salvare l'umanità Dio ha mandato suo figlio ad allontanarci dalla venerazione degli idoli e ad insegnarci ad adorare Dio in spirito e in verità. Satana, non potendo sopportare ciò, riuscì insensibilmente a restaurare l'idolatria nascosto sotto le apparenze del cristianesimo. Ma Gesù, fonte per noi di salvezza, così come un tempo aveva inviato i suoi discepoli e apostoli per annientare i nostri errori, nello stesso modo ha fatto sì che i nostri più imperatori si opponessero alla nuova idolatria. Poiché non poteva ammettere che la Chiesa fosse più a lungo tormentata dalla malizia dei demoni, ha convocato la santa riunione dei vescovi diletti da Dio. Dopo aver esaminato con diligenza le decisioni dei sei concili ecumenici, ci siamo convinti che l'arte colpevole della pittura costituiva un sacrilegio contro il dogma della nostra salvezza. Che fa l'artista ignorante che, per sacrilie e gavidità, rappresenta ciò che non deve essere rappresentato e vuole dare con le sue sozze mani una forma visibile a ciò che non deve essere creduto che con il cuore crea un sigmulacro e gli dà un nome, Cristo. Cristo significa Dio è uomo, ne consegue che quell'immagine di Dio e dell'uomo egli ha contaminato con audacia e insensata la natura divina con la carne creata in una fusione che non deve mai avvenire. Egli si è reso colpevole in un doppio sacrilegio, aver preteso di rappresentare la natura divina che non deve mai essere rappresentata e aver mescolato la natura divina all'umana. Se si obietterà che siamo nel giusto per quel che riguarda l'immagine di Cristo a causa dell'ineffabile unione delle due nature, ma non per quel che riguarda l'immagine di Maria, dei profeti, degli apostoli e dei martiri, che sono stati soltanto esseri umani e non partecipe di due nature, risponderemo che se rifiutiamo le immagini di Cristo dobbiamo rifiutare anche tutte le altre. Basandoci sulla Sacra Scrittura e sui Sacri Padri, noi unanimemente dichiariamo in nome della Santa Trinità di condannare e respingere e allontanare con tutte le nostre forze dalla Chiesa Cristiana ogni immagine, di qualunque materia essa sia composta, frutto del colpevole artificio della pittura. Chiunque in avvenire userà fare una di queste immagini venerata o esporle in una chiesa o in una casa privata o perfino possederla nascostamente, dovrà, se vescovo, prete o diacono, essere deposto da sua carica. Se monaco o laico sarà colpito da una tema, incontrerà inoltre nei rigori delle leggi civile come nemico di Dio e dei dogmi che i padri ci hanno insegnato. La risoluzione finale del concilio di Costantinopoli 754. Bene. Dunque, secondo la risoluzione conciliare di questo concilio cattolico, chiunque fa delle immagini di Cristo, dei Santi e della Madonna, deve essere, attenzione, se vescovo, prete o diacono, essere deposto dalla sua carica. Se monaco o laico sarà colpito da una tema e incontrerà inoltre nei rigori delle leggi civili come nemico di Dio e dei dogmi che i padri ci hanno insegnato. In pratica la pena è tanto più grave, quanto più è misero, quanto più è basso nella scala sociale, l'individuo che commette questo delitto, fare l'immagine. Il problema è questo, che le decisioni di questo concilio scatenano la caccia alle immagini, la distruzione delle immagini, l'arresto di pittori, l'arresto di scultori. Provoca effettivamente un grandissimo casino. Nella prospettiva di una riconciliazione con Roma si colloca invece il secondo concilio ecumenico di Nicea, indetto dall'imperatrice reggente che è Irene a Costantinopoli, ma trasferito a Nicea per una rivolta di soldati iconoclasti, scoppiata nel 786. Il concilio doveva annullare gli atti della precedente assemblea del 754. Le decisioni del concilio furono approvate a Roma ad Adriano I, ma la disputa a Bisanzio si riaprì per continuare fino all'843. Cos'è successo in pratica? Che hanno distrutto le immagini, però siccome le immagini dei Santi e delle Madonne gli servivano per mettere in ginocchio le persone, perché non avevano nessun altro strumento per fare questo, è intervenuta l'imperatrice Irene di Bisanzio, ha convocato un nuovo concilio e ha imposto praticamente al Papa e ai Vescovi di ripristinare il culto delle immagini. Naturalmente questo non andava a genio a chi rifiutava le immagini e ci furono delle rivolte di soldati, ci furono degli scontri armati molto pesanti, ci furono parecchie migliaia di morti. Il concilio di Nicea, alla fine, conclude questo. Il Santo Grande Universale Concilio, per grazia di Dio e per decreto dei pigli e cristiani nostri imperatori, Costantino e Irene, sua madre, è riunito per la seconda volta in Nicea in Bitinia. Nella Santa Chiesa di Dio, del titolo di Sofia, seguendo la tradizione della Chiesa Cattolica, definisce quanto segue. Alcuni hanno deviato dalla retta ragione opponendosi alla tradizione della Chiesa Cattolica. Hanno tentato infatti di screditare le immagini dei sacri monumenti dedicati a Dio, seguendo infatti uomini scellerati, quelli del concilio precedente, e trascinati dalle loro passioni, quelli del concilio precedente. Hanno accusato la Santa Chiesa sposa a Cristo e Dio e non distinguendo il sacro dal profano, hanno messo sullo stesso piano le immagini di Dio e dei suoi santi e le statue degli idoli diabolici. Non potendo quindi il Signore Dio sopportare che i suddetti sudditi venissero corrotti da una tale peste, ha convocato con la sua volontà divina noi da ogni parte. In tal modo, seguendo in tutto e per tutto l'ispirato insegnamento dei nostri padri e la tradizione della Chiesa Cattolica, noi definiamo che, a somiglianza della preziosa e vivificante croce, le venerande sante immagini, sia dipinte che in mosaico, in qualsiasi altra materia adatta, debbono essere esposte nel sante Chiese di Dio, nelle sacre superlettili e nelle vesti, sulle pareti e sulle tavole, nelle case e nelle vie, siano esse l'immagine del Signore e Dio e Salvatore nostro Gesù Cristo. E' quella dell'Immacolata Signora nostra, la Santa Madre di Dio, degli angeli degni di onore, di tutti i santi e più uomini infatti, quanto più compiutamente vengono visti nelle immagini, tanto più quelli che le vedono sono portati nel ricordo e al desiderio di quelli che esse rappresentano e attributare ad essi rispetto e venerazione. Non si tratta certo, secondo la nostra fede, di un vero culto di latria, adorazione delle immagini, che è riservato solo alla natura divina, ma di un culto simile a quello che si rende alle immagini della preziosa e vivificante croce, ai santi evangeli e agli alti oggetti sacri, onorandoli con l'offerta di incenso e di lumi, come era uso presso gli antichi. L'onore reso alle immagini, infatti, passa a colui che essa rappresenta e chi onora l'immagine adora la sostanza di chi è riprodotto. Chi perciò oserà pensare o insegnare diversamente, in questo caso, quelli che sono vescovi o chierici siano deposti, i maniaci, i laici, siano esclusi dalla comunione, eccetera, eccetera. Questa è la definitiva conclusione del concilio di Nicea del 787. Per cui il concilio di Nicea va contro l'altro concilio. Dopodiché ci sarà uno scisma fra la chiesa, credo che sia la chiesa greco-ortodossa, che si staccherà proprio per il discorso iconoclasta. Credo sia greco-ortodossa, comunque so che dopo porterà un altro sisma. Allora, vediamo un attimino. Gli uomini della chiesa cattolica hanno accusato quelli che fanno le immagini di essere blasfemi, di essere volgari, di essere l'artista ignorante, sacrile gavidità. Bene, e lo hanno accusato di questo. Dopodiché, un altro concilio accusa quelli che hanno portato ad affermare questo, che sono loro i sacrileghi, no? Che bisogna invece fare le immagini. Cosa dire di tutto questo? Di tutto questo, la centralità di tutto sta nell'assoggettamento dell'individuo, sta nell'appropriarsi dell'individuo. Qualunque sistema è buono per appropriarsi delle persone, per mettere in ginocchio le persone. Qualcuno pensa che è meglio mettere in ginocchio le persone cancellando le immagini, qualcun altro pensa che è meglio mettere in ginocchio le persone invece usando le immagini. Per cui, il nocciolo è come mettere in ginocchio meglio la persona. È come quando troviamo certi cattolici che combattono la chiesa, certi cristiani che combattono la chiesa. In realtà non è che combattono la chiesa per le ingiustizie, combattono la chiesa perché non è in grado di articolare al meglio e per imperfezione l'assoggettamento delle persone. Perché, per esempio, San Francesco combatteva la chiesa? Mica perché lui voleva la giustizia, voleva libertà, voleva qualcosa. No. Perché la chiesa, ostentando lo sfarzo, ostentando quel tipo di modo di essere, non era in grado di assoggettare sufficientemente bene gli esseri umani. E per assoggettare bene gli esseri umani doveva avere un'apparenza di povertà, doveva avere un'apparenza di rappresentante di Dio in un certo modo. Bene, la chiesa riteneva invece che la povertà non era in grado di assoggettare sufficientemente bene le persone ed aveva ragione la chiesa. Però la chiesa ha usato Francesco, ha usato questo cazzo di San Francesco, come modo per dire ai poveri, restate poveri e imitate Francesco. Questo è un bellissimo gioco degli specchi che ha al centro una sola cosa, la sottomissione degli esseri umani, lo stupro della libertà negli esseri umani. E veniamo adesso al commento. L'incredulità di Giudei e la guerra iconoclasta. Naturalmente il commento va a legare le due cose, perché la guerra iconoclasta non è avvenuta così tanto per avvenire, è avvenuta perché Giovanni, nel suo Vangelo, e gli altri evangelisti hanno dato delle indicazioni ben precise su come la chiesa deve comportarsi rispetto alle persone. Un attimino di musica e andiamo avanti con la lettura. Allora, prima del verbo c'era l'immagine, l'immagine alla descrizione immediata dell'individuo, di quanto percepisce relazionandosi col circostante. Il verbo è il risultato della ragione, è il risultato della ragione, di controllare la percezione, cioè è il tentativo della ragione di controllare la percezione dell'individuo costringendolo a descrivere il percepito. Così l'individuo non si relaziona con quanto percepito, ma con la parte del percepito che riesce a descrivere. Alla fine, solo quanto riesce a descrivere esiste, quanto non descrive non esiste, poi sparisce l'immagine e rimane il verbo. Scompare l'individuo in relazione col circostante e rimane l'individuo in relazione con la propria ragione. Controllare la descrizione dell'individuo equivale a controllare l'individuo. Lo sa bene Giovanni che all'origine del cristianesimo mette il verbo. Il verbo permette il controllo e la coercizione dell'individuo. L'immagine permette all'individuo di superare la descrizione. La percezione dell'individuo e del circostante, superando la descrizione, gli permette di ampliare il descritto della ragione, estendendo l'articolazione della descrizione fino ad abbracciare l'oggetto per quello che è e non solo per quanto descritto attraverso i suoi fenomeni limitati dalla ragione. L'immagine come possibilità di liberazione dalla coercizione del verbo. L'immagine come arma attraverso la quale fissare l'attenzione dell'individuo per impedirgli di superare la descrizione imposta del verbo. Come viene usata l'immagine nel paganesimo? Esistono due modi. L'immagine come descrizione del percepito attraverso l'alterazione della percezione dove la simbologia rappresenta gli elementi dell'interazione dell'individuo con il circostante. L'immagine come proiezione dell'individuo nel circostante dove l'individuo simboleggia se stesso nella relazione con il circostante e nel suo sforzo di sviluppare libertà. Immagine percepita e immagine prodotta dove la relazione fra entrambe qualificano il grado di libertà raggiunto dall'individuo nella costruzione del proprio potere di essere. Il superamento della relazione fra immagine percepita e immagine prodotta sia quando l'individuo nel sviluppare la relazione diventa esso stessa oggettività soggettivando l'oggettività stessa. Questo è l'immagine nel paganesimo. La guerra iconoclasta ha lo scopo di scegliere il modo migliore attraverso il quale impedire all'individuo di relazionarsi col circostante e bloccare la sua attenzione cortocircuitandola all'interno del concetto del verbo. La lotta consiste nel trovare il modo migliore per mettere in ginocchio l'essere umano impedendoli di diventare uno col circostante e percorrere il proprio cammino diventando eterno. Nel concilio di Costantinopoli del 754 i relatori della risoluzione finale affermano che seduti da Satana gli uomini religi cristiani si sono messi ad indirizzare le loro preghiere non al creatore ma alle cose create. Questo concetto sarà il motivo ricorrente attraverso il quale i cristiani muoveranno disprezzo per ogni altra forma religiosa. Gli altri adorano idoli di pietra. In realtà sono i cristiani che attraverso la loro infinita superstizione considerano magiche questa o quell'immagine anche dello stesso oggetto immaginato. In altre parole non tutte le statue della Madonna fanno il miracolo ma solo quella statua specifica. La risoluzione del concilio di Costantinopoli dice che Mosè e i profeti hanno condannato le immagini considerando questo un peccato. Il concilio di Costantinopoli si preoccupa di costringere i cristiani a sottomettersi alla pulsione di morte in quanto pulsione di morte. I cristiani secondo il concilio di Costantinopoli devono sottomettersi alla parola di Dio in quanto parola di Dio non in quanto evocazione dell'immagine di Dio. Così Dio è verbo e non è immagine in quanto lo spirito divino non può essere forma assumendo ogni forma. Il concilio afferma che Gesù ha inviato i suoi discepoli a distruggere l'idolatria per impedire che la chiesa fosse tormentata dalla malizia dei demoni. Il concilio di Costantinopoli condanna l'arte e la rappresentazione senza eccezione alcuna. non solo ma chi fa dell'arte sacra un'attività viene definito un avido sacrilego e le sue opere sono fatte con sozze mani. Le dichiarazioni del concilio di Costantinopoli si basano sulla sacra scrittura sui santi padri e vengono fatti in nome della santa trinità. ordinano pene gravi per chi trasgredisce esponendo costruendo e detenendo immagini. Chi è in grado di opporsi a tanta autorità? Il rifiuto delle immagini ha una sua ragione di essere nel tentativo di imporre l'accettazione del macellaio di Sodoma e Gomorra in quanto attività del macellaio di Sodoma e Gomorra è il tentativo di mantenere indescritto e inimmaginabile il terrore che la violenza del precetto divino implica. Ogni concetto religioso diventa espressione di aggettivi dove ognuno immagina il valore da dare all'oggetto senza per questo fissare un limite all'oggetto stesso. Così quando Gesù afferma solo Dio è buono il termine buono suona vuoto nella bocca di Gesù in quanto egli omette ogni riferimento attraverso il quale definire buono il macellaio di Sodoma e Gomorra quell'aggettivo prende forma e sostanza nell'immaginazione del lettore ogni lettore immagina l'essere buono di Dio in base al proprio concetto e alla propria forma di bontà dunque Dio è buono come ogni singolo lettore immagina la bontà di Dio non per quanto Gesù afferma che Dio è buono attraverso l'imposizione dell'aggettivo viene nascosto il macellaio di Sodoma e Gomorra che viene spacciato al lettore in quanto buono la non esistenza delle immagini stimola l'immaginazione del soggetto a definire il descritto in base alla propria soggettività ciò che al concilio di Costantinobili sfugge è che il soggetto non rappresenta l'unica volontà operativa nell'oggettività in cui si muove ma l'oggettività stessa è insieme somma di volontà che comunque agiscono sul soggetto se l'immaginazione del soggetto può spaziare e costruire la sua personale immagine della descrizione fatta dai sacri scritture così l'oggettività può intervenire sull'immaginazione variando l'immagine e per conseguenza i valori soggettivi usati nella descrizione in altre parole l'attenzione soggettiva è libera di spaziare e di relazionarsi col circostante il concilio di Costantinopoli lasciava aperta la questione del controllo dell'attenzione senza manipolazione dell'attenzione attraverso un totale assoggettamento dell'individuo con tutto il suo cuore con tutto il suo corpo con tutta la sua anima non è possibile controllarlo se il concilio di Costantinopoli parlava per bocca della sanca alla trinità il concilio di Nicea parlava per decreto degli imperatori Costantini e Costantino e Irene quando i padroni si vedono sfuggire il controllo degli schiavi subito la chiesa cattolica corre ai ripari i ripari consistono nel bloccare l'attenzione degli esseri umani affinché costoro non si relazionino col circostante se le immagini erano condannate da Mosè a Costantinopoli a Nicea le immagini erano approvate dalla tradizione della chiesa cattolica sarebbe da chiedersi chi comanda nella struttura dottrinale cristiana Mosè che parla direttamente con Dio e appare a Gesù durante la trasfigurazione o la tradizione della chiesa cristiana venuta formandosi per meglio controllare gli schiavi in ginocchio davanti al macellare Sodoma e Gomorra non era tale macellaio il creatore del cielo e della terra l'essere immutabile tanto che Gesù arriva a dire che è più facile caparsi il cielo e la terra che non venga modificato un appice della legge è facile sentenziare che il bisogno di assoggettamento e di dominio della chiesa cristiana e cattolica in particolare è prioritario a qualunque legge divina e a qualunque profeta tant'è che il papa si considera superiore ad ogni altro profeta e anche a Dio stesso nel modificare la parola divina il bisogno di possesso e di dominio fa brutti scherzi alla megalomania di certi loschi figuri i partecipanti al concilio di Costantinopoli erano uomini sceglierati che trascinati da loro passioni hanno accusato la santa chiesa sposa a Cristo o sono i partecipanti al concilio di Nicea che sedotti da Satana volevano restaurare l'idolatria nascosta sotto le apparenze del cristianesimo il cristianesimo è idolatria nel senso dispregiativo dato dal cristianesimo a questo termine il concilio di Nicea intendeva bloccare l'attenzione degli esseri umani la peste cui il concilio di Nicea si riferisce era la libertà dell'essere umano una libertà che il macellaio di Sodoma e Gomorra non era in grado di sopportare le immagini servono per bloccare l'attenzione la croce è dipinta la croce è definita la croce è immaginata l'immagine descrive la croce la definizione qualifica la croce l'arte dipinge la croce l'attenzione è cortocircuitata su se stessa onde evitare che spazi troppo che troppi spazi si costruiscano che no questo è un errore onde evitare è che troppi pazzi si costruiscono altre immagini di santi assoggettati alla croce di angeli assoggettati alla croce di Dio che benedice la croce la madonna che ama la croce così che tanto più quelli che le vedono sono portati al ricordo e al desiderio di quelle che essi rappresentano tributando ad essi rispetto e venerazione così la vita degli esseri umani diventa una croce e è assurdo stupirsi se l'immagine evocata per la liberazione dall'inferno della croce sia poi quella di satana nemico definito dai cristiani della croce ecco il senso reale della disputa gli schiavisti si sono misurati sul mezzo migliore per continuare il possesso degli schiavi ma sebbene avesse fatto così grandi miracoli davanti a loro non credevano in lui era necessario bloccare l'attenzione degli astanti affinché si convincessero che lui poteva fare miracoli se la loro attenzione poteva spaziare libera loro potevano chiedersi quali sono i miracoli che fai dove sono i miracoli che hai fatto di quale natura sono i miracoli e allora non bastava più l'affermazione secondo cui lui faceva i miracoli era necessario dimostrare il miracolo come avrebbe fatto la chiesa cristiana cattolica a dimostrare questo era necessario bloccare l'attenzione affinché gli schiavi credessero per fede alle sue affermazioni solo la paura la poteva costringere gli esseri umani ad accettare le affermazioni della chiesa cattolica per fede e come si ottiene la paura bloccando l'attenzione degli individui costringendo gli individui a diventare dipendenti del proprio padrone Giovanni indica un altro po' perché ho quasi finito Giovanni indica ai cristiani come devono comportarsi come i farisei facevano nei suoi racconti i farisei dominavano attraverso la paura non era vero Giovanni lo sapeva ma non c'era nessuno a smentirlo i tempi erano cambiati e lui poteva inventarsi qualsiasi altra cosa così insegnava alle chiese cristiane la necessità di seminare paura per poter meglio controllare gli schiavi gli schiavi del macellare di Sodoma e Gomorra e quando gli individui non accettavano passivamente la sottomissione non è perché i cristiani mentono o sottomettono ma perché qualcuno crea il vuoto nel loro cuore qualcuno certamente odio Satana ma quando gli esseri umani si difendono dalla loro ferocia certamente è Satana i cristiani hanno seminato la storia di un'immagine che consentisse loro di accusare i loro avversari cercando di nascondere nell'obbligo ogni ricordo del divenire degli esseri umani sia il concilio di Costantinopoli che quello di Nicea hanno questo significato prendono le parole del concilio di Costantinopoli di Nicea possiamo definire i cristiani ignoranti non conoscono il divenire umano avidi rubano il pane dalle mani di chi non si può difendere idolatri mettono se stessi gli altri esseri umani in ginocchio uomini scellerati distruggono il divenire umano non distinguono il sacro dal profano non distinguono il circostante dal loro desiderio di sviluppare la pulsione di morte la guerra iconoclastica fu dunque una guerra interna alla chiesa cristiano-cattolica per meglio controllare gli schiavi che essi chiamano fedeli per impedire loro di cogliere dall'albero della vita eterna questo è il commento all'interno del libro Gesù di Nazareth l'infame umana ed è il penultimo capitolo che riguarda le guerre iconoclaste e questo è il motivo per cui per esempio è stato levato via il comandamento uno dei dieci comandamenti che ossia il secondo è stato levato via dalla Bibbia cioè è stato cancellato nella chiesa cattolica cioè è stato rimosso anche se lo ritrovate nella Bibbia secondo cui gli esseri umani non devono costruirsi immagini a somiglianza di Dio delle cose divine delle cose che stanno in cielo e in terra bene questo è stato rimosso perché chiaramente i cattolici non sono d'accordo con questo non sono d'accordo con Dio poi ognuno fa i suoi calcoli e fa le sue deduzioni molto molto bene qui abbiamo finito la presentazione del libro andiamo un attimino avanti con le cose a braccio le cose a braccio allora ieri qui nella sala sala riunioni di Radio Gamma abbiamo tenuto una piccola assemblea conferenza diciamo così fra tutti quelli che volevano discutere di cose che sentono per radio o di cose che hanno sentito la cosa è stata chiesta e voluta da Franco proprio per avere un incontro un po' più allargato cioè che non fosse solo per radio ma che fosse anche libero alla discussione alla discussione ha partecipato una ventina di persone io sono stato molto contento di ciò che è avvenuto in realtà cioè nel senso che le persone che hanno portato se stesse hanno espresso se stesse naturalmente ci sono stati anche tutta una serie di contradditori una serie di contradditori perché il sentire religioso il sentire non è un gioco è effettivamente un atto estremamente importante della vita ed è un atto che ci costruisce o che ci può distruggere naturalmente serve precisare ogni concetto perché perché anche se moltissime persone hanno i nostri concetti li hanno dentro li vestono in maniera diversa cioè usano parole diverse o sistemi frasi diverse per definire più o meno le stesse cose per cui si crea si crea delle anche delle incomprensioni noi non abbiamo la nostra filosofia il nostro modo di pensare la ricostruzione generale di tutta la religione pagana non è un sistema noto un sistema corrente è una cosa che si sta costruendo da alcuni anni per cui non essendo comune l'uso di termini non essendo comune l'uso di concetti o la manipolazione di concetti non essendo comune anche l'applicazione dei concetti stessi ogni persona che ha più o meno il nostro sentire elabora qui i concetti però li elabora con parole sue con intenti propri con fini propri con proprie specificità per cui chiaramente tutti quelli che sentono quello che noi diciamo anche se magari loro hanno sempre pensato le stesse cose l'hanno sicuramente pensato sempre con una terminologia diversa con un divenuto diverso con delle cose diverse infatti noi non diciamo che la nostra cosa è nuova in assoluto tutto quello che noi diciamo lo ritrovate anche nella storia non è che siamo staccati dalle cose quello che è venuto ieri qui in radio è stata una discussione estremamente vivace a me è piaciuto moltissimo anche perché io so perfettamente che il paganesimo non può convertire nessuno non può convincere nessuno della sua giustezza le cose o si sentono si percepiscono oppure è meglio lasciar perdere cioè è meglio legarsi alle cose che si sentono che si percepiscono che danno piacere piuttosto che crearsi dei fantasmi o dei legami che non piacciono o che possono addirittura magari dar fastidio per cui le persone hanno discusso hanno controbattuto hanno fatto quello che è stato fatto e ciao le cose devono costruirsi un po' alla volta devono modificarsi si passa sempre dai concetti generali cioè dal pensiero generale al pensiero particolare a ciò che fare e ieri parlavamo del pensiero generale qualcuno ha lanciato la proposta di farla ogni due mesi cioè di fare un incontro così ogni due mesi magari in orario e in giorno più propizi ma per me andrebbe anche bene se qualcuno fosse anche d'accordo insomma però dovremmo vedere valuteremo un pochino la cosa naturalmente manteremo sempre questo questo tipo di livello cioè non esiste nel paganesimo una verità rivelata una verità fissa una cosa di sistematico di di assoluto cui piegare le persone per cui chiaramente tutto il sentire è sempre un sentire soggettivo è sempre un modo di essere un modo di essere personale che si proietta che si proietta nel mondo per cui tutte le riunioni che faremo cioè tutti i dibattiti che faremo rappresenteranno sempre la soggettività dei partecipanti e naturalmente non avranno mai una vera e propria conclusione operativa o conclusione del fare perché perché le diversità delle persone sono in realtà preziose proprio quella non soluzione di cosa fare proprio quella non soluzione di diventare un organismo unico quella non voglia di sottomettersi a qualcosa di sottomettersi a una verità è l'essenza stessa di quello che stiamo facendo cioè quella è l'importanza di quello che stiamo facendo non è tanto il il fatto di dare una filosofia perfetta un modo di vita perfetto qualcosa che tipo qui sono cazzate l'importante è avere la sicurezza della diversità confrontare le cose diverse e modificare un po' alla volta che poi ci sia un linguaggio che sia più più consono meno consono per definire le cose questo è un altro discorso però l'importante è salvaguardare nel modo più assoluto le diversità fra le persone per cui a me è piaciuto molto ieri anche se c'è stato un disguido postale in realtà abbiamo spedito circa 50 inviti e non erano ancora arrivati abbiamo telefonato delle persone e gli inviti non erano ancora arrivati per cui ci sono state delle difficoltà postali e anche organizzative perché chiaramente li abbiamo mandati via tardi comunque cercheremo di fare meglio vediamo un attimo pronto? ciao ero che ti ascoltavo dimmi sono l'anno Maria di Venezia ah sì ciao ciao e dimmi no ero che ascoltavo tutta la dall'inizio fino adesso no mia ora che non so mi eh siete voi eh siete alti adesso ho abbassato il tempo cercate di smeggiare un po' i cosi come se i bottini sì sì i bottini sì ho già fatto ho fatto ascolti mi amore dimmi mi volevo dirti una roba mi mi ho trovato posso dirlo sì mi ho trovato in momenti talmente un po' un po' depressa sì verso casa mia mi sono trovata su una sedia e sulla mia tavola ero molto triste ma era un sogno era un sogno eh era un sogno guarda che ti sento eh era un sogno com'è era un sogno cosa no 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 stai vivo eh stai vivo no 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 sognavo ero in casa mia sempre c'era mia tavola eh sì quando c'è un momento di rilasso no sì ti sei sempre in tavola e stai là e pensi tante cose no sì eventualmente io ero lì perché siccome che sono sola mi può succedere tante cose io eventualmente ero là che stavo così e dicevo signore aiutami ma donna perché non mi ascolti così è tutto per me eh e dico perché Angelo mio custode sei dietro le mie spalle perché non mi aiuti sono sola perché non mi aiutate e mi dice ero proprio non in sogno proprio dal vivo e c'ero che imploravo verso loro perché siccome che io sono sola ho famiglia ho tante cose no eventualmente mi sono implorata verso loro guarda mi consentì un momento mi avevo fatto con coscienza ma l'ho fatto così con tanto amore mi consentì come un brivido verso di me ma guarda ti giuro davanti a Dio sono stata così bene così bene che adesso ho anche lavoro ecco no perché adesso delle volte pararia e robe talmente non tanto per tali quali però mi non è che sono di chiesa eh andavo in chiesa quando ero bambina perché sono stata battisata cresimata e anche sposata però eventualmente ho perso un po' di religione però delle volte la religione la comprendo e la capisco perché da bambina mi hai insegnato tante cose senti il brivido l'hai avuto lungo la spina dorsale eh l'hai avuto dietro la spina dorsale il brivido no ma io io ero così perché io dove l'hai sentito sto brivido io parlavo con alta voce sì dove l'hai sentito sto brivido mamma mia in radio hai messo sorda scusami vieni qua al telefono dai se no rispondo una roba per un anno dove l'hai sentito il brivido come? dove l'hai sentito come l'hai sentito dove l'hai sentito ehi dove l'hai sentito il brivido nel mio corpo sì ma dove l'hai sentito la sua spina dorsale quando ho nominato zio mattone il mio angelo custode perché implorava in quel momento perché non 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 chiamavo più sì perché dico nessuno mi aiuta nessuno mi fa niente eh ho implorato loro e mi in quel momento ma l'ho fatto con tanto di fede questo sì l'ho fatto di fede sì ma comunque lo conosco sta roba mi ha sentito un brivido verso il mio corpo eh e eventualmente dico mi sono rilassiato guardo qualcosa di un po' d'essere guarda non ti credi no lo so bene io sono cosa è successo te lo credo sì sì però guarda mi non so di chiesa perché te l'ho detto prima però se ti dà una buona attenzione che preghi non sei da pregare la mattina di essere in chiesa scattare i banchi come che si dice il proverbio no però se hai un momento di attenzione che ti dà il momento del desiderio di parlare va bene il signor poi madonna si adesso adesso ti vedrai che le cose verranno per adesso ti rispondo per radio ho sbagliato no ti lo dico per radio sì ecco ciao ciao grazie a te ciao ciao no perché sì adesso te lo spero giusto darlo certo perché tanta gente crede che ne crede però nel momento hai fede in quel momento dell'atto pratico hai fede non è così adesso ti dico ciao ciao grazie a voi ciao questa qua è una delle cose che succedono più più spesso e più allora cosa ha fatto la nostra Anna Maria queste qua sono tecniche che si usano anche nello yoga si usano anche in meditazione si usano anche in contemplazione anche se la contemplazione è un'altra cosa praticamente lei in quel momento aveva chiamiamolo un nodo di energia da sciogliere un nodo di energia vitale stagnata da sciogliere molto grosso e naturalmente non sapeva non conosce tecniche di rilassamento tecniche di meditazione tecniche di yoga ha fatto l'unica cosa che gli hanno sempre insegnato praticamente ha invocato ha invocato Dio ha invocato la Madonna ha invocato quello che gli è stato sempre insegnato a fare e lei lo ha fatto usando quella descrizione per praticamente sciogliere questo nodo di energia stagnata che si stava formando è riuscita a scioglierlo è riuscita a concentrarsi a scioglierlo e in quel momento lei è stata abbastanza bene cioè è riuscita a liberarsi da un gruppo come si direbbe anche in dialetto il guaio di tutto questo è che l'unico modo che lei aveva per farlo era fare una supplica alle divinità che gli erano state insegnate lei ha invocato Dio la Madonna in realtà ha semplicemente compattato se stessa e ha sciolto questo gruppo ora lei non va a dire l'Anna Maria non dice io sono stata brava perché io mi sono sono riuscito a compattarmi e a sciogliere il mio nodo di energia che mi stava oprimendo era un fiattino insomma oppressa no dice che la fede è arrivato Dio la Madonna che gli hanno fatta star bene e questo è un guaio grosso questo questo è veramente un guaio grosso e questo guaio ce lo troveremo sempre e ci troveremo sempre testimonianze di questo tipo bene date una risposta anche l'amica Anna Maria e ricordando a tutti quanti che questo tipo di sensazioni si hanno per esempio nella pratica del sognare si hanno vibrazioni anche fortissime si riescono a praticare ed è inutile dargli un significato diverso da quello che è gli scioglimenti dei centri di energia bloccata è una cosa che tantissima gente usa anche per fregare gli altri cioè chiariamocelo questo non non è che siano delle cose eccezionali delle cose sovranaturali dell'intervento divino molto bene andiamo avanti ancora con le cose tenostre allora stavamo dicendo appunto di quella l'assemblea l'assemblea conferenza che abbiamo fatto ieri e le cose secondo me andranno sempre in questo modo però magari migliorando cioè nel senso che man mano a mano che si faranno delle altre assemblee i concetti verranno sempre più specificati appariranno sempre una serie di aspetti che andranno ad approfondire sia la pratica sia il modo di essere il modo di rapportarsi col mondo quando si parlerà per esempio del crogiolo dello stregone ognuno potrà portare la sua esperienza come praticare quegli elementi del crogiolo naturalmente la pratica del crogiolo dello stregone è una pratica soggettiva una pratica personale oppure si potrà semplicemente continuare a parlare di concetti anche perché parlare di concetti in realtà sviluppare discorsi diversi o attenzioni diversi per aspetti diversi delle cose ci predispone in maniera diversa proprio a guardare il mondo cioè praticamente chiama il mondo ad agire su di noi chiama il mondo a trasformarsi e non abbiamo bisogno di chiedere aiuto a Dio anche perché non esiste per cui il problema è proprio questo ad alcuni la riunione di ieri è piaciuta ad alcune altre persone non è piaciuta per cui io a questo punto ho dei dubbi se fanno un'altra fra due mesi io sarei tentato di fare una scadenza ogni due mesi magari in un giorno migliore un orario migliore ci si può anche mettere d'accordo se qualcuno ha delle proposte e vederci una volta ogni due mesi per discutere di queste cose se la scadenza sarà fissa sicuramente alle persone che ci sono quelle che non piacciono magari si allontaneranno un po' le altre si avvicineranno ne arriveranno delle altre c'era sempre questo scambio continuo dove si può continuare a parlare di concetti di cose comunque la discussione è finita verso mezzanotte circa le 11.40 è andata avanti parecchio ha cominciato circa le 8.45 mi sembra un po' tardi e si sono toccati i piani generali e toccando i piani generali si è potuto mettere in luce una serie di punti attraverso i quali si sviluppa la stragoneria e il paganesimo dopodiché chiaramente quei punti non vanno a convincere le persone perché la convinzione nasce da dentro nasce dall'interiorità e a questo punto io dovrei sbalaccare la radio e lasciare il posto a Cinzia e Raffaella però siccome Cinzia e Raffaella di solito non arrivano e mi lasciano sempre abbastanza tempo dopo prendiamo un altro concetto da sviluppare e il concetto da sviluppare intanto che arriva Cinzia e Raffaella lo prendiamo stavolta dalla Deuotio ieri della Deuotio ne abbiamo parlato solo un accenno perché questo perché la Deuotio è uno dei più potenti riti pagani perché è potente perché l'individuo che porta avanti una Deuotio è un individuo che determina se stesso praticamente è come se l'individuo dice io devo affrontare una sfida qua o la va o la spacca cioè qualunque cosa succeda io questa sfida la porto a termine per cui la Deuotio è effettivamente una un grande rito e nella rito del sentiero d'oro nella Deuotio del sentiero d'oro abbiamo una parte di divinità centrali che sono rappresentano il male rappresentano la descrizione del male queste queste divinità che rappresentano la descrizione del male ne vengono già parlate sono Virbios sono gli incubi sono Mors Orco Pace Estrici bene queste divinità incarnano quella che è la distruzione dell'essere umano cioè ciò che succede ad un essere umano per essere distrutti prendiamo Virbios cosa dice il sentiero d'oro Virbios è colui il cui scopo è piegare l'essere e la sua coscienza ai propri scopi ai propri fini ai propri desideri Virbio è incapace di estrarre il potere da sé deve togliere il potere di essere ad ogni essere esistente deve togliergli il sapere deve togliergli la conoscenza deve togliergli la consapevolezza deve togliergli l'abilità delle sue mani oblio è il suo mezzo d'azione come si combatte Virbio coltivando ed estendendo la propria specie quanto Virbio odia in pratica Virbios rappresenta l'incarnazione di una tensione che ha come scopo quello di sottomettere gli esseri umani privandoli della loro capacità di espandersi della loro capacità di coltivare la loro conoscenza di coltivare la loro consapevolezza di coltivare il loro sapere perché perché quando gli esseri umani non coltivano la conoscenza non coltivano il loro sapere non coltivano la loro consapevolezza dimenticano e quando dimenticano sono facilmente dominabili bene mi fa uscire di continuare vediamo un attimo scusa pronto? si? posso parlare? certo la domanda è una stupidaggine non è importanza dimmi da un brodo primordiale la prima cellula è strisciata dal brodo primordiale e ha modificato sua figlia che ha modificato sua figlia che ha modificato sua figlia e dal brodo primordiale siamo cresciuti perché perché sono vedi mi ha insegnato la dottrina cattolica si che il signore ha tolto la polvere e l'acqua e dopo gli ha fatto l'uomo e gli ha soffiato in faccia e l'uomo è stato vivo fu vivo in che maniera fanno gli altri miso e tutto il popolo si vengono fanno facendo questo questa cosa ragazzi capito? esatto si e perché non sono buono a parlare? no no sei brava ecco e allora adesso mi mi ha tolto la briga ma devo dirvi ma come siamo che siamo vengono ora al mondo se adesso non sei come chi mi ha insegnato il cattolico eh si e adesso te lo dico per radio penso punti altro da dirvi bene adesso basta grazie 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 ciao allora ti dico due parole per radio noi questo l'abbiamo già detto cioè per noi la forza delle trasformazioni è dentro le cose cioè io mio nonno il nonno di mio nonno il nonno del nonno di mio nonno faceva parte di una catena di individui che sono usciti dal brodo primordiale che cos'è il brodo primordiale? non è altro che il miscuglio che ci fu quando si formò il pianeta terra un poco dopo insomma che si è amalgamata l'acqua si è compattata per luce per calore per fulmini per quello che è successo per il volere della terra le prime cellule hanno cominciato a riprodursi cioè c'era un essere microscopico che cominciò a riprodursi cominciò a esercitare la propria volontà questo ha generato cioè si è sisso ha cominciato a scindersi e a generarsi la catena da quel momento fino ad oggi poi non so se la mia catena si è cominciata allora o si è cominciata un miliardo di anni dopo non ha importanza da allora generazione dopo generazione cioè cellula dopo cellula si è usciti dal brodo primordiale però ogni cellula cercava che il suo figlio fosse più attrezzato per costruirsi per cui è successo che queste cellule invece di essere una sola si sono messe insieme hanno cominciato tre cellule quattro cellule cinque cellule finché poi sono passati attraverso quella che è la forma animale attraverso quella che è fino a diventare la forma attuale cioè ci siamo modificati un po' alla volta questo è il modo con cui ci siamo costruiti e così si sono costruiti tutti gli esseri della natura non esiste un modo diverso per cui Dio non ha creato assolutamente niente non solo perché non esiste ma perché non esiste la creazione propria vediamo un attimino tornando un attimo ancora alla Deuotio è arrivato un ragazzo mi ha fatto cenno di continuare perché non sono ancora arrivati qua allora ritornando al discorso della Deuotio il secondo abbiamo detto che Virbio è quello che ruba il potere agli esseri umani e lo ruba attraverso oblio facendoli dimenticare per esempio la censura fatta dai certosini fatta dai preti che ricopiavano i libri hanno cancellato milioni e milioni di libri cioè milioni e milioni di informazioni scegliendo loro il libro che doveva essere riprodotto dal momento che tutti gli altri non sapevano leggere non sapevano scrivere non sapevano discriminare gli altri hanno perso quello che magari li poteva interessare per cui hanno costruito oblio e questo è un essere Virbios è un farsi Virbios nel paganesimo vedremo ancora un'altra cosa fatto conduce l'essere e l'essere individua gli incubi incubi sono le ossessioni che assalgono l'essere dei bisogni insoddisfatti incubi sono le paure generate da sfide lasciate in sospeso incubo è quanto produce il tarpare le ali alla civeta di Minerva come si combatte incubi attraverso lo sviluppo del sapere e della conoscenza operando per soddisfare i propri bisogni attraverso lo sviluppo del potere di essere prendendo nelle proprie mani il proprio divenire cos'è cosa sono gli incubi gli incubi sono delle incarnazioni sono delle coscienze che hanno come fine quello di nutrirsi delle paure delle persone delle paure degli esseri e agiscono sull'essere umano agiscono generando paura ma com'è che generano paura quando l'essere umano non combatte più quando cessa di crescere quando si arrende quando preferisce essere in ginocchio anziché costruire se stesso per cui quando l'essere umano tarpa le ali alla civeta di Minerva cioè rinuncia al sapere alla conoscenza a palpare il mondo lui praticamente lascia libero il campo all'arrivo di incubi incubi gli costruiscono la paura per esempio quando le persone hanno paura che lo zingaro li viene in casa a rubare beh questa paura è un effetto di incubi cioè è una paura divina che tenta di distruggere l'essere umano perché questo? perché basta niente per difendersi da uno zingaro è facilissimo la cosa più semplice che esista bene la persona ha paura che lo zingaro li venga dentro perché lei non sa esattamente come difendersi cioè la sua ignoranza la sua bassezza morale la sua costrizione l'aver rinunciato ad affrontare la vita la porta ad non essere in grado di mettere in atto delle difese sufficienti e minimali affinché lo zingaro li venga in casa e allora ha bisogno di tuonare contro gli zingari che gli rubano quello che lei ha bene questo è un effetto di incubi questo è un effetto delle divinità nere quelle che mettono in ginocchio gli esseri umani allora come si combattono gli incubi operando per soddisfare i propri bisogni attraverso lo sviluppo del potere di essere prendendo nelle proprie mani il proprio divenire magari per i zingari basta comprare un lucchetto e vediamo un'altra divinità nera l'altra divinità nera è Mors Mors è letteralmente tradotto morte in realtà però non ho voluto tradurlo come morte ho voluto lasciare Mors proprio per dargli un significato tutto suo dove Mors è la fine del divenire Mors è la morte del corpo fisico e del corpo luminoso insieme Mors è il risultato di un essere che anziché sviluppare il proprio potere di essere preferì mettersi in ginocchio Mors è il non divenire come si combatte Mors sviluppando alimentando l'essere luminoso di cui il corpo fisico è l'involucro allora anche questo concetto è un concetto divino cioè la distruzione dell'essere umano è un atto di magia è un atto di magia nera per cui anche questo ha una sua importanza e quando l'essere umano rifiuta di costruire se stesso non è che non pratica magia pratica magia nera la sottomissione è un atto di magia nera se il mettersi in ginocchio è pregare è un atto di magia nera sottomettersi con tutto il proprio cuore con tutta la propria anima è un atto di magia nera aiutare a sottomettere i bambini è un atto di magia nera e ora la magia nera cosa porta? porta alla distruzione delle proprie trasformazioni alla distruzione del proprio divenire la magia nera porta alla morte del corpo fisico e la fa coincidere con la morte del corpo luminoso lascia cioè l'essere umano vuoto alla morte e questa divinità mors che ho lasciato col nome latino diciamo così per dargli un significato preciso ha questa tensione cioè sviluppa questa tensione dice all'essere umano ma non combattere ma lascia perdere ma ti vuoi mischiare ma fa finta di non vedere qui vedo una frase che hanno attaccato su al burro qua dice Guevara che dice siate sempre capaci di sentire nel profondo qualsiasi ingiustizia commessa contro chiunque in qualsiasi parte del mondo bene questa è la negazione di mors perché questo costringe l'individuo a stringere pugni e denti naturalmente non è detto che si debba imitare la Guevara però quando mors insegna le persone ad arrendersi lasciar perdere a farsi fatti propri a far finta che non siano le cose a mettersi in ginocchio a pregare che forse è più facile questo è l'effetto di morsa un'altra divinità sempre nera è orco anche qua dà un certo un certo peso orco è un'antichissima divinità divinità etrusca che poi passò a Roma orco è la trasformazione dell'essere da un'esistenza fondata sul potere di essere ad un'esistenza fondata sulla propria azione del potere di altri esseri del loro divenire del loro sapere dell'abilità delle loro mani come si combatte orco continuando a sviluppare la propria conoscenza il proprio sapere l'abilità delle proprie mani anche quando appare più semplice e comodo portarlo via ad altri esseri della propria specie orco è un divino che costruisce una sottile differenza una sottile distinzione fra il potere di essere e il potere di avere io posso costruire o posso appropriarmi per soddisfare i miei bisogni spesso la scelta non è discutibile perché è una scelta fissa però a volte possiamo scegliere possiamo scegliere il potere di essere anziché il potere di avere possiamo fare delle scelte anziché altre scelte nel fare quelle scelte anziché altre scelte anziché altre scelte noi costruiamo noi stessi un attimo solo due secondi di musica e poi riprendiamo benissimo allora visto che sono arrivati i ragazzi io sto per smaltellare la regia finché i ragazzi si prendono il materiale si preparano finiamo il discorso abbiamo detto orco è questa sottile distinzione ed è una distinzione divina è una scelta dell'essere umano fra il potere di essere e il potere di avere quando è più facile sempre più facile portare via le cose ad altre persone si distrugge una parte di noi stessi anziché forzare noi a costruirsi e a trasformarci si preferisce prendere anziché costruire noi stessi io chiudo qui la trasmissione di Magia Stragonaria Paganesimo vi ricordo che io sono Claudio Simeoni Piazzale Parmesan Otto Marghera e sul lengo telefonico mi trovate come Via delle Vignole 4 perché ho cambiato indirizzo vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti che è Casella Postale 53 Marosti a Vicenza vi ricordo che non ho sigla per finire la trasmissione per cui io vi ringrazio per avermi ascoltato e ci sentiamo giovedì prossimo vi ricordo che c'è una conferenza a Marghera e a scusate a Bologna sabato 9 e arrivederci e a risentirci grazie di tutto vi ricordo che questa è Radio Gamma che trasmette sul 94FM che trasmette per avermi ascoltato Grazie a tutti.